Volete vedere un trucco? Chi vuole un cucciolo? Oh, tutti ci ignorano! Ma perché? Dove stanno andando? Ci sarà una svendita? Tutto questo non ha senso! Capirò che succede! E ora ecco la seconda parte! Oh no! Il cucciolo è vivo! Bravo! È così carino! Arnold, datti una regolata! Oh oh! Fuggite! Bene, bene, bene! Cosa abbiamo qui? Le presento a Abramo III, signore! Niente animali in questo negozio! È illegale! Addio, Abramo III! Non ti dimenticherò mai! Ecco cosa devo fare! Fare entrare animali di nascosto nel negozio! Ehi, Andrew! Stai attento a Fluffy! Chi? Vai a fare la spesa! Fluffy, sei troppo visibile! Devo nasconderti! Un cestino andrà benissimo! E il canocchiale si trasforma in... Binocolo! Sono un genio! Un cesto strisciante! Ecco che arriva il boom! Giochiamo! Quale cesto ha una sorpresa? No! 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 Ok! Hai spaventato Fluffy! Torna indietro, Andrew! Sicurezza, aiuto! Da dove arriva il rumore? Rilevo un segnale! Abbiamo un oggetto non identificato! Arrivo! Facciamo uno scan! Strano! Come lo chiameresti? Scrivi qualche tua idea nei commenti qui sotto! Dovrò lavorare sotto copertura! Ecco il più grande mago del secolo! Arnodocus! Ciao! Vuoi vedere il mio spettacolo? Guardami fare il giocogliare! Ora con una mano sola! E ora senza mani! Mentre Arnold distrae Barney Andrew si insinua nel negozio con un cane! Ma parecchi anche lui ami i maghi! Arnoldocus al tuo servizio! Questo è per la tua performance! Ottimo lavoro! Ehi! Niente cani qui dentro, amico! Ops! Oh! Commissario da guardia cane! Hai catturato un altro criminale! Sei così coraggioso! Cosa abbiamo qui? Oh! Questo codice gigante non funziona! Aspetta! Serve uno scanner più grande! Non cancellarmi la memoria! Forza, lascia che ti scannerizzi! Andiamo, agente K9! Ma dove vai? Cos'è quello? Sono cieco! Per chi sei tornato? Sapevo che avrei dovuto farlo da solo! Io e il mio compagno cercheremo nel negozio! Tu puoi aspettare qui! Ehi! Attaccheggiato! Sicurezza! Prendilo! Sta cercando di rubare! Sbrigati! La prossima volta prendilo da sola il tuo criminale! Andiamo, socio! Babbo Natale e Rudolf! Siediti, Babbo Natale! Ho molte cose da dirti! Voglio tutto quello che c'è su questa lista! Capito? Voglio anche Saturno! Penso che sia tutto per quest'anno! Cosa? Che fila enorme! Ok! Vieni a dire a Babbo Natale cosa vorresti per Natale! È il mio turno! Sono io! Ma dov'è Babbo Natale? Babbo, voglio davvero un cane! Ok! Prendi il mio! Sei il migliore! Babbo Natale, alzati! Rivoglio la mia sedia! Oh, vecchio maleducato! Basta così! Sono stupo! Non voglio più essere Babbo Natale! Babbo! Svegliati, Andrew! Ho un grande piano! I condotti! È perfetto! Aiuto! Sono bloccato! Fa così caldo qui! Accendo l'aria condizionata! Un ghiacciolo umano! Mi dispiace tanto! Quello è mio! Scusate! Si raffredda facilmente! Sono in posizione, capo! Ho la tua parrucca! Ciao! Cosa porta una bella ragazza come te in un negozio come questo? Compreresti una nuova irresistibile colonia? No! È troppo cara! Solo un momento! E ora? Sì! È conveniente! Tieni il resto! Oh! Annie! Ti sembro irresistibile ora? Annusami! Iuuh! Cos'è questa puzza? Barney ora è davvero irresistibile! Per gli animali! Lasciami in pace, cane! Barney, credo che quella sia acqua di colonia per gatti! Mi ha fatto a pezzi, Annie! Io odio la colonia! Poverino! Consegna fuori misura, signore! Buona giornata! La mia consegna speciale! Nasconditi, fiocco di neve! Sta arrivando la guardia! È il solletico! Ciao! Oh! Cosa c'è sotto la mia camicia? Barney non smette di ballare il twist pruriginoso! Qual è il tuo problema? È ora di andare a casa, Andrew! Chi è quella? Rosa, via da qui! Vattene! Vattene dalla mia Annie! Tutto sta andando secondo i piani! Cane e gatto! Sterreminare! Oh! Zucche! Animale sospetto rilevato nel settore nord-ovest del negozio! Attivare subito l'arma! Odio le zucche! Il miracolo degli ologrammi! Attivato! Ehi! Mi scusi! Niente cani nel negozio di alimentari! L'ologramma è pronto, signore! Porta il cane! No! Fallo tu! No! Vai! Vai! Sono il tuo capo! E fai quello che ti dico di fare! Faresti meglio a stare attento! Ah! Si è spaventato e se n'è andato! Oh! Un cane? Ma da dove viene? Mi scusi? Questo è il vostro cane? Felice di aiutare! Oh! E questo chi è? Avremo terzo! Il mio vecchio amico! Ehi, amico! Oh oh! L'ispettore! Cosa? Un altro cane? Credevo di avere detto... Niente animali! Chiudo questo negozio! Potete uscire tutti! Oh! Oh! Potete uscire tutti! Lo salverò io! Tu, cane! Mi hai salvato! Revoco il mio divieto! Gli animali sono i benvenuti qui! E il negozio è di nuovo aperto! Andiamo, Andrew! Il nostro piano è fallito! Non capisco perché nessuno venga nel nostro negozio! Oh! Perché la nostra insegna dice chiuso! Ora dice è aperto! Wow! Era questo il problema! Anche noi siamo un negozio popolare! Ti è piaciuto il nostro nuovo video? Scrivi qui sotto come faresti entrare di nascosto il tuo animale domestico in un negozio di alimentari! E ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video e cliccate sulla campanella! Non perdete nessun nuovo video di Woohoo!